Signore Gesù, quanto ti affidiamo, tutti quelli che sono in questo momento collegati come noi, o San Charbel, intercedi per noi, per tutte le famiglie, per tutta l'Italia, tutti gli italiani in qualunque parte si trovano nel mondo. Che Signore a te preghiamo, donaci la forza, l'amore, speranza nel cuore e la pace, Signore. Affidiamo a te, Gesù, o San Charbel, intercedi per noi. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Charbel prega per noi. Adesso sarà il momento, sentite questo qui, il momento di benedizione, allora di entrare in questo gruppo apostolico dedicato a San Charbel, sentinelle di San Charbel, allora lo chiedo, consapevoli che entrate voi, Martina, vuoi entrare a questo gruppo apostolico, diventare sentinella di San Charbel? Lo voglio. Giuseppe, e tu vuoi entrare in questo gruppo apostolico, diventare sentinella di San Charbel nel mondo? Sì, lo voglio. Allora così, cari fratelli e sorelle, ricevete Dio Onnipotente che vi dona la sua benedizione. Ma San Charbel, tu ti prego di benedire, di intercedere per Martina. Prendi questo manto, questo manto che ci copre, come manto di Maria. Ma San Charbel, che San Charbel veramente ci difende e ci guidi sempre. E tu come sua sentinella, che sempre, sempre sarai testimone dell'amore. E vieni dentro, vieni. E la medaglia, prendi anche quella medaglia della Madonna e di San Charbel. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E anche Giuseppe, tu, prendi anche tu questo manto e Maria che ci difende e ci copre con suo manto. E San Charbel, che ci guida anche, di portare l'amore, di portare la testimonianza di quell'amore, le mani sopra. E quest'altro. Di portare questo amore anche verso il prossimo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E questa medaglia anche, prendi e ottieni questa medaglia con Maria e San Charbel. E lei che ci guida sempre. Amen. Vieni qui al fianco. Adesso, cari fratelli e sorelle, vedete come due soldati, insieme a lui che ci guida, San Charbel, che ci protegga, che ci dona proprio quella protezione, l'amore che abbiamo bisogno. E preghiamo insieme adesso e diciamo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e ai secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina, assoluta di buon inizio, prega per noi, i santi patroni di questo luogo, San Giovanni Paolo II, San Charbel, Santo Padre Pio, pregate per noi. Grazie a tutti.